buongiorno a tutti sono rodolfi simone due volte campione del mondo di panificazione vengo da desenzano del garda in provincia di brescia e nella vita sono un consulente nell'ambito della panificazione e dei prodotti da forno la 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 panificazione e dei prodotti da forno Quando vengo qui a scuola tessieri mi trovo veramente bene perché abbiamo a disposizione le migliori materie prime e le migliori attrezzature che un professionista può avere per svolgere meglio sul lavoro, oltre al fatto che sia il corpo docenti che gli assistenti che mi aiutano durante lo svolgimento delle mie lezioni sono veramente accoglienti e mi aiutano a sentirmi a casa e a svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile.